lunedì mattina non c'è un posto addio, andiamo si una cosa, hai avuto notizie di Jasmine dopo quella sera? si è fatta sentire per avvertirmi delle intenzioni degli sbirri strana chiamata dopo un silenzio di due anni l'hai sentita al telefono? cosa hai in mente? sinceramente non si può mai sapere con Yase credevo di conoscerla Raider senti, non devi fartene una colpa che vita è? una vita senza fiducia una vita senza rete di sicurezza una vita senza speranza è una citazione dal tuo libro si, questo libro mi ha cambiato la vita ok Raider, ci vediamo al garage certo, a dopo ma cazzo è un macchina, c'è vivo? oh, mi chiedeva a vedere ma si, faccio così ma si, faccio così ma si, faccio così ma si, faccio così ma si, faccio lo mio ma che cazzo eeeh ma che cacchio ah, pensavo di buttarsi su di me cazzo contigo e non frena e non frena guardalo come cazzo si mettono in mezzo poi? ma perché non frena la macchina? mamma mia mamma mia ora è coerciuto ma si, ah mi piede il culo non è una più non è una più non deve andare più veloce di così dai, si che cazzo le macchine che schifo parica puttana schifo le macchine non c'è niente di male a prendere contro di me guardalo qua guardalo qua guardalo qua guarda, mo' che sbatto contro il palo ti faccio finire va, ma guardalo qua 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 Se lo portò con il freno, non sto con il freno, comunque fa l'idea di una pata. Vabbè. Tu. Mamma mia. Schifo. Fattaggio veramente, fattaggio veramente di sto cazzo l'ho fatta. Sì, 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 sì. Dove vedo qui sempre? Facciamoli tutte. Già, ci sto. Tutto, tutto. Dove cazzo sono? A questo punto non faccio più a fare questa. Ma... Non c'è l'SPU, se le panotte. Così? Vaglio via. Ancora a far spiegare sui pubblicità. Vaglio. Mamma mia, schifo. Ma sembra... Sembrano veloci le macchie. Poi fanno in gara. Lentissime. Beh. Non assolutamente. Non so che sia peggio. Parker o Stevenson. Ma soprattutto, quanti sponsor ha questo tizio? Oh. 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 Vabbè. Vabbè. La posso andare dritto. E' un po' storto. Affetta? No, scusi un attimo. Cì, io pago 6.000 per vincere 6.000. Ma che cazzo gioco fa allora? Cazzo la faccio fa, gara? Cì, le compensa 12.000 ho capito, ma se pago 6.000 di iscrizione... Un sacco di soldi. Ma che sei scemo? Ma la matematica sto giocosa? Se vinco 12.000 pago 6.000 di iscrizione. Ma che cazzo la faccio fa, gara? Questa è una cazzata? Questa è una cazzata. Questa è una cazzata. Ma che cazzo la faccio fa, gara? Questa è una cazzata. Questa è una cazzata. Poi pago 6.000. Ma se devo fa 6.000? E pago 6.000? Cazzo, poi ci fa fare la gara? Che è giusto per completar così? Per se no non ha senso. Boh... Ma la EA quando fa sui giochi, ma ci pensa alle stronzate che fa? Boh, ma la EA per me fanno uscire il gioco così tanto per... Guarda qua. No, non ho frenato. Ho fatto un cazzo. Ah! Ho spiegato da solo. Eh, lo so. Ti vedo. Vabbè la prima di fine pausa da far sti cazzino a spiegare il cazzo. Mi cazzo di stanno apposta da fare tutti male. E' lì. L'ultimo buono sto proletto. Ha fatto sto gioco, si me la fa una figata. E invece sto cazzo. Invece un altro buco nell'acqua che ho fatto. Vabbè. Mamma mia. Per me manco non li trovano quando... Quando li fanno uscire sti cazzicoli. Non bisogna uscire sti cazzino... Plerta. Non amica, ma... Ccraft. Ed per me no, ma... Ah! Ma... ...quotte. Eh! Ah! Eh! Mi vedi dietro. 너 da sempre Hispani. Tocchi 25 anni fa anno della. i soldi si non sto sgombando niente sto girando tranquillamente tutta sua violenza la macchina di vista con dentro l'unico scusa un attimo scusarà scusate io mi faccio i cazzi miei e basta 12.000 di ricompensa di riprimo paghi 6.000 p 6.000 e 650 perché sopra la scommessa ma che cazzo di gioco stanno a fare questi ma uno più schifo dell'altro porca troia aie 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 mi sono svegliati questi cazzo i giochi stai svegliata cazzo b e cos'è questa una grande vincita scusate grande vincita da 16.000 32.000 si almeno qua ci guadagni qualcosa ma il judo guarda che se c'era scritto grande vincita ricompensa 31.000 ma ti facevano spendere 30.000 di iscrizione toglievo il gioco lo spegnevo lo impacchettavo tu lo davo cosi senza manco finire la storia quella cazzata c'è un conto questo metti almeno che cazzo adesso ogni iscrizione 0 hai guadagni 20.000 se devi prima no 0 1.500 ma sta stronzata queste cazzo di iscrizioni ma che cazzo insomma quando arrivi primo vinci tutto il piatto cazzo vinci ma che sto a fare delle gare legali che paghi l'iscrizione che cazzo dai ma che sto a fare a questo punto qui molti che si arrivo primo mi vinco tutto il pacchetto mi vinco tutto il pacchetto quello che cioè quando arrivo primo mi vinco pure l'iscrizione ma non ha senso teniti da mia a farmi almeno prendere altri iscrizioni non ha senso e se toltiamo in 12 paghi l'iscrizione la mia tela tiene la mia iscrizione però se vincio e arrivo primo mi prendo i tutti gli altri 11 cioè non ha senso ecco paghi l'iscrizione che cazzo ho capito a fare l'iscrizione manco su gran turismo paghi l'iscrizione o forse si però almeno cazzo paghi l'iscrizione ma c'hai un mazzo di banconote in faccia cazzo, è un po' super uno paga l'iscrizione e poi vinci 12.000, ma ne fai di 6.000, ah che cazzo, cazzetta fa la gara allora, lasciala stupido, boh, fa negare del cazzo, fa negare del cazzo, sta cazzo di cosa dell'accelerazione mi dà un fastidio, no, no, la macchina si ferma due, ma accente qualcosa, non è che balancio, yuhuu, ma portate, c'è una bombom, 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 ste cazzo di categoria di macchina, c'è se non ci fosse stata la categoria o qualsiasi macchina veloce, c'è anche la storia delle categorie non l'ha migliorativa, sinceramente, ragazzata anche quella, c'è se ve lo prendo la macchina quella potente o una bella S più cazzo, perché sinceramente a Lamborghini, no, non, non fa, non è potente come pensavo che fosse, è proprio la macchina regalata, dove prendo il di cazzo, a posto che in tutte le settimane che mi son messo a far, non sono riuscito a mettere la parte di soldi per prendermelo la cazzo di macchina veloce, no, tutte macchine le specie le regalate, io sono messa sto, andrò che prego, ma sei pavente, stiamo seguendo le auto sospette, sarò meglio a preparare i soldi, ho già vinto, ma che cazzo, ma la fregata ne cazzo, ma la fregata ne cazzo, eh, mambo, 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 è affanculo, spazio di categorie buah, mille e otto eh beh certo, quello stava sei chilometri indietro da un pò, però adesso ce l'ho indietro vado meno me ne copi smette in pausa ma non ha senso quello va sbattere e non si chiede un cazzo, sbatti io mi faccio male e ha fatto pure la battuglia e altra gente così affare in culo ma va finire vado sbattere quella dietro veicolo sospetto ancora in fuga a comando eh, comando vado la pubblica c'è un modo per scendere in giugno 15.000 vabbè gli ho spesi, allora 207.000 gli ho spesi per fare le esercizioni del cazzo ahhhh più andiamo avanti più ci torniamo indietro le giochi ma non si rimpiando perchè devono fare le playstation nuove rimaniti sulla play 1 p***** ottimi giochi sia di storia perchè manco il multiplayer la storia era buona, la duratura ma invece boh puntano sul multiplayer e la storia non dura un cazzo un multiplayer dura 6-6.000 anni e poi oh 80 euro di giochi per parca miseria due ore di storia dappacchino ehi obbio anche nobby ma che che macchina la ha, questa ma su che cazzo ho messo mi fa mi fa la parte mi fa la parte mi fa la parte che non faccio una cazzo di la gara della fatta io sto cazzo in gioco 3.000 anni saranno non faccio una cazzo di gara della fatta sotto cazzo in gioco si ho capito ma la macchina non drista sinceramente non so come cazzo giocavo ogni volta eppure io ho questo io l'ho lasciato niente ma non vuole dristare quello è il problema non è la parola non vuole fare eeeh ehm ahhh come dicevo dovevo andare al gioco ah troppo felice ehh andate a fanpulo qua ma ti vedi conto che schifo eh ah ti vedi conto che schifo eh ah ah ti vedi conto che schifo eh eh almeno questo lo sa fare eh vabbè ha capito ma io se 70.000 non ce la farà mai a fare questa cazzo di macchina eh la faccio un assoluto ce la deve fare e dirà più che cazzatini mari e poi alla fine non funziona eh ma andiamo a fare quel hotel il coso molto obbligatore ah ok ce l'ho fatto bisognava che ce l'ha fatta infatti dicevo mi da posto 80.000 e si faceva di più eh ma stava su dai mari per farlo ma macchina ho dritto a un cazzo boh se no il cazzo si fa e quant'è che ho preso? 32.000 ho pagato distruzione 16.000 vabbè è possibile fa schifo sto gioco ma fa schifo cioè devo finire 32.000 ho vinto 16.500 ma è cazzo gioca fa sto gioco da merda ma io faccio i cazzi miei ma mi faccio i cazzi miei ho perso altri soldi lì ma non ha senso giocare così ma non ha senso qua invece quanto pago? pago 2.000 per vincere ma fa schifo che cazzata del gioco guarda da zero che gran cazzata di gioco che gran cazzata di gioco ho messo su una machina fa doppia delle macchine che non vanno manco veloce ho modificato al massimo questa la macchina non va manco veloce per questa macchina sull'info speed hit ho modificato al massimo e la best ho modificato al massimo per la A fa schifo questo gioco qua è tutta grafica, tutto skill ma niente potenza si fa proprio schifo tutto stile e basta tutto stile per le macchine facevano meno le cazzate con con i fumetti i personaggi fatti a fumetto facciavano un gioco bello facciavano un miglior, un bel lavoro che ce l'ha fatto questo, infatti coglioni mamma mia schifo ah pure, pure quel punteggio con il culo il punteggio proficola, metta nel culo il punteggio ah vabbè la macchia del cazzo giustamente è inutile che mi fai fare il destro e sinistra perchè quello è un po' schifo che cazzo avevo fatto che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo cambia che cazzo che cazzo è un po' schifo che è un po' schifo che cazzo marco perdono solo i soldi dell'altra macchina. Ma che cazzo di senso ha sto gioco? E giusto è fatti perdere solo la voglia di comprarne un altro e dimmi fa scrivere. Che cazzo di senso ha? Giusto è per farti pensare mica, pensa che è il coglione che si prende un gioco a prezzo pieno. Poi gioca sta sto schifo qui e dice ma che cazzo ho speso qua? Ma non hai l'ho speso anche poco io. Chiaramente mi sarei cazzato avesse speso tanti euro con un gioco di merda così. Che schifo. Mamma mia. Tra gli eventi io non ti pagare un cazzo. Dai, le cattico di solle auto. Ma che stai scemo? Le iscrizioni da pagare. Vabbè. E' più quello che paghi di iscrizione e quello che guadagni alla fine. Cioè Bob è il gioco di essere fatto. Tutto stile e niente sostanza sto gioco. Che schifo. Mamma che schifo. C'ha soltanto la storia che è bella. Poi basta finito lì. Solo la storia è bella di questo gioco. E' basta. Abbiamo finito lì il gioco. Scusa un attimo mora. Raga la cosa devo fare io no? Qui. 1500 e 5250. Cazzo cosa fa? Togli le scommesse e la menti è un pochettino. Questa pagare l'iscrizione. Ok. Ma cazzo ma pagare di più? Porca trove. Ma che cazzo vuol dire? Che ho fatto un trato di case su 3640 ho perso un po' di soldi. gioco a gai. Ah sì. Bene Mie facести da quel mazzo che c'ho i soldi legali. Cioè l'era anche a 자�ra, sinceramente. Sì, mi accetto. Enzo, 15 mnie vienen. Ang� cheers nel viaggio Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? anche la battoglia vuole divertirsi un po che palle ah pure quello c'è, ma giusto, ci sarà andava bene il gioco, ah cazzo dice non ho sbattato il controllo, io ho perso il controllo del veicolo, ah pure, ho ricolpito io sto, mannazzo al culo, ah guarda qua, guarda qua che due coglioni non credo che la nostra auto resisterà a lungo qua fuori, non so quanto ancora riusciremo e palle, mamma mia da nuovo che l'ho scappato, l'auto sospetta è scoperta, jefferson is, oh vabbè loro sono pure dove sto andando continuate a cercare cucciuno cucciuno oltre dentro nel fogone c'entra, vabbè pure tu e butto sotto, li butto colaro, ok non vedono ora non montarti troppo la testa non montarti troppo la testa pochè, ma perchè mi era data a me il controllo non ha senso, l'ho colpito quello, mi era data a me il controllo il primo posto ti addice solo a me chi mi ha detto il primo posto ti addice solo a giustizia? o il mio personaggio? e dai non c'è no non c'è quello, noi si rompevano di cazzate ah io no non vai da quelli di ognuno a me la rompe i coglioni vai dritto no non per cazzo eh no sceso vabbè quanto ma me lo trovo a rompere i coglioni lì madonna adesso è tornato diretti a quelli lì lo sta seminando penso no è impossibile che non lo ha seminato ma tanto me lo trovo davanti me lo trovo dietro appena finiamo la gara che vabbè impossibile vabbè allora è strano è strano un po' subi strano c'è solo questo 24 mila ah ho a dirmi ho a dirmi scusate è ricompensa 48 mila se paghi 24 mila paghi 24 mila è nato per rompere i coglioni per fattigire i coglioni è nato per fattigire i coglioni cioè scusa lei cazzi macchina che te lo dice poi ma conviene fare la nostra gara qua faccio la trovo 352 360 ripiche più di 363 352 la macchina non va c'è modificata penso tutta quanta forse ma non funziona non va non va oltre se faccio provo proviamo perché devo dire se non ci fanno neanche cazzi macchina già quella vabbè proviamo chi è in giustizia che non c'è manco in gara ah la Lamborghini già e iniziamo che parte parte come cazzo vuole lei ma se macchina iniziamo che già parte come cazzo vuole lei adesso arriva la polizia e non per cazzo solo a me e butto fuori pista ma per cazzo questo gioco è fatto di merda la gara non è ancora finita seppure la sfida così cosa ma te sei malato ma te sei malato ma te sei malato ma te sei malato non usare lo tutto non usare lo tutto non usare lo tutto Grazie a tutti. Ma non avrai mai il mio? Quella non l'ho capito. E' strano che non mi sono trovato la polizia davanti. Ma di solito ho un bel cazzo. Quindi 24.000 per spendere 24.000. Che cazzo. E' brutica del matrimonio. E' brutica del matrimonio. Dove cazzo posso andare? Cioè S, S, S più, S io che cazzo macchina vivo. Non voglio prendermi la polizia. Eh, ma non voglio neanche schiantarmi con la macchina. Il problema è quello, non voglio neanche schiantarmi con la macchina. Eccolo. Credo di aver avvistato l'auto. No. E' brutica del matrimonio. E' brutica del matrimonio. La macchina dovrebbe volare per poi non piegare macchina. Vedi? C'è tutto io, mamma mia. Che spalle. Cioè che fastidio. Eh, mi passi sto cazzo. Abbiamo perso. Ma chi è entro qui? Cioè, è uncirato, è andato a destra e a sinistra. E' come che sei semo? Eh, vabbè. 3,29, 3,25. E c'è sempre sta cazzo di bachelard. Che è impossibile da superare. Però, mettiamo conti di lui. Magari. Boh, ho fede. Che macchina, questa qua. Ma chi lui mi fece la falsa? Guarda quello lì, guarda quello lì che è già partito. Sta facendo... Ah no, lì, dì che è qua. Che cazzo c'è davanti allora? Ah, Medusa? Eh, te l'avevo. Ci volo. Ma che cazzo c'è da impossibile che a me mi beccano quello davanti a me, ma non cazzo. Eh, ma affaite. Ma che ha fatto quello? Si è girato su se stesso. Non mi capito che ha fatto. Ma che cazzo stai ad andare? Ma perché mi fece? Mi fanno fare... Cioè, mi fanno fare il cazzo di stranato con la macchina sportiva. Ma già fai! Eh, però vado sotto. Eh, vabbè. Eh, a me mi... A me mi tiene questa, cioè, giustamente. A me questo cazzo, che va quello davanti con questo cazzo, ovvio. A me calma, come una. Poi... Cara, una strontata, sto gioco. Ai minimi, mi piace. Eh, se si fermano da venire da me. Che dico, ma porco giura. Ma perché? Eh, pure... mamma mia cosa ho schivato mamma mia cosa ho schivato se lei che come cazzo ho fatto sinceramente mamma mia che culo se lei come cazzo ho fatto a fare con la scuola da lì che mi stanno dietro ma sai che cazzo vuol dire ho un caro armato come quello che pesa contro una macchina come questa fatto aggiornamento hanno distrutto il gioco più stretto e andrei veloce c'è la chiaprizia dietro vabbè e meno male che ho scommesso perché sono sto cazzo guarda che c'è il bestione dietro io te lo dico ah no due ce ne ho è il gioco del cazzo allora dove sono con la macchina tu 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 vabbiamo 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 4 mila di iscrizione 6 mila 8 mila già va bene perché comunque almeno non mi dice ricompensa 12 mila iscrizione 6 mila ma è che cazzo ce l'ho fatto e io faccio così se riesco perché non ho detto che mi fanno scappare così appunto sì ho tante ricotte vi ci sono vincito 80 no 80 c'è 3 di contro 2 no no quella cazzo la striscia che per una senso cioè io prendo la striscia e e me ci buca le ruote e tutto questo imbeca la striscia un cazzo e ci voglio vai su però è impossibile è impossibile ma è impossibile ma sono a fuori dai poca troia ma vi devo lanciare joystick sto cazzo ti dizi del cazzo cazzo cercate da per sotto e trovate quelli di minchia lancio il giusto i civili faccio prima minchia che fastidio sti cazzo i civili di merda pocciuta oh mafammi che schifo porca miseria oh che pade sti civili del cazzo e veni boom e veni qui boom e c'è la caravita sul paraulti porto giù vedi come cazzo fa la macchina sembra veloce quando fa che fa schifo è andato a un pericolone quello si ammazza tra di loro cazzo la gta cazzo la gta cazzo la gta ma gioca eh è qua lenta e ho visto ormai e ho saputo di passare di qua cosi è troppo facile vabbè a questi non brifo non può non farlo non brifo cazzo cazzo non è più che fa schifo non ci deve ricordare dai che non puoi coglioni questi polizioti non si stanno prendendo dai su ci posso capire che nel gioco va avanti quindi ma un aumento di controllo di poche palle cazzo il perma che va avanti ma tu ti vedete che viene a rompi coglioni ti vedete che viene a rompi coglioni è rompi coglioni a mio eh vedi ma lui però un cazzo ma è quello che è rompi coglioni ma è quello che è rompi coglioni ma è quello che è rompi coglioni ma si mette sul fianco e mi sprona che tu e buttalo fuori no no a me è rompi coglioni no ma piglia no buttalo proprio fuori da questo guardalo va guardalo va guardalo va guardalo va eh non ho capito come hanno fatto a morire però va ah perché non frena la macchina di uomo la onda santissima tutto stile niente sostanza sto ziggio c'è una storia che ti fa adesso spazio perché mi vedo adesso mi ha scritto beh vabbè fai il gesto la sua cura mezz'ora che sta dietro nella macchina ma porco c'era che cazzo di strada devo fare che io se non beco un po' di ciotto mentre faccio il cast a strada mezz'ora ah pure sotto devo andare potevi mettere che non c'era sto cazzo di cosi mai ma il cazzo dici almeno tagliavo tutto no perchè cazzo ah guarda la polizia che viene guarda questa è una gran cagata quella quella di si può rompere ma non me l'ha fatto rompere vabbè va bene tranquillo a non il mio colpo ho sapevo che li usi gloria e dai però ma che cazzo eh ma quello io lo sapevi ci sono venuto a posta io qui perchè io non leggo mai perchè ste cazzate qua non le voglio fare ste cazzate qua non le farei sicuramente di fare i cazzi mia giustamente di fare proprio i cazzi mia mi farei quindi l'ho frenato oh cazzo ho frenato sto prendendo già il cazzo già mi sono volto io non voglio che certe volte ma la tappa bene anche voi che ce l'ho si è liscia così ma perchè non vai griff mamma mia pastiglio è poco pastiglio è poco pastiglio ciò che cazzo dai ma dove cazzo voi hai un peglione eh dai hai un peglione vai ora cazzo dovresti pretender da fa scusa che cazzo mi pretende da fa non si può maniare ho detto di farla della parola ma ti direi ma vaffanculo da in cazzo da solo giurata a casa a destra al giorno vaffanculo da oltre in cazzo c'è un gioco di merda ti rendi conto? siamo finiti se da solo mi ha girato nella chiara da sola oh no oh ho schiacciato quadrato ma non funziona contatto ma complimenti ah e qui che ce lo faccio faccio un cazzo no mi riusci a rifare una cosa perché per la macchina sta via fa oh ma di un po' lavoramento? ma che cosa è successo? no capito? devo assurdo mio marito ma che cosa fa la macchina? la macchina di caffè probabilmente non ci sono le cure storie da solo mi ricordo che non ci sono le cure Amanueso per la macchina di avversare la macchina di ك stays schifo del gioco schifo del gioco quelle musiche più merdose che abbia mai sentito un gioco su un gioco quello non l'ho capito mai perchè mi ammuda la serie di moltiplicatori non scade, adesso mi scade e vabbè sapete che purtroppo questa si perde ma non è un mappa schifo ah si si non ho toccito io ho così ho toccito ho toccito ho toccito ho il gioco di merda manda a fanculo va fa il cazzo fa il gioco del cazzo manda a cagar il cazzo vabbè dei soldi è basso questo gioco poi diceva che uno ne finisce ma non si fa proprio schifo sti giochi poi diceva che uno ne finisce fa il gioco mi ha dato il cazzo oh il sicilio di zero ma fai cura di te guardate che cazzo oh oh per cazzo ehm si vabbè però è impossibile c'è un viaggio rapido quanto c'è un cazzo non c'è non c'è c'è niente c'è uno non c'è un viaggio rapido non c'è un viaggio rapido non c'è un viaggio rapido ehm ma è basti ma sono tutti i coglioni ma finì proprio sto gioco me lo piglio e lo vengo a prescindere senza finire finito un cazzo ma sono tutti i coglioni gioco di merda non c'è un viaggio rapido non c'è un viaggio rapido non c'è un tirabile a mezz'ora dai sì o porco giuda ma come cazzo stavamo messi ciocco del cazzo proprio porco giuda ma buon ciocco del cazzo sono una pesa per il culo sto giorno centrale o visuale sull'auto sospetta finita però fastidioso abbiamo una vittamento recente del suo tempo al tiba mi piglio tutte le macchine che si ma le tracce dell'auto sospetta eh mai impossibile l'auto civetta però più veloce, dai ma già sei messo dai ma come cazzo come mi metti lo scolacchi gioco c'è non gioco il gigi gioco di coglioni eh affanculo troppo questo c'è dai si è un'altra carta è un'altra carta del gioco è un'altra carta è un'altra carta che parla ben tornati alle novità di Lakeshore su KRSFM la stazione numero uno in città la polizia ha messo in stato di fermo diversi soggetti in seguito alla corsa illegale di ieri e sospetta che ci sia un evento più grande in programma a breve oh merda per precauzione ho autorizzato gli agenti a ricorrere a qualsiasi mezzo per garantire la sicurezza degli abitanti di Lakeshore sicurezza un corno mi raccomando massima attenzione là fuori e cosa fa mi lancia il missile con il lanciamissile ma chi ha voluto dire adesso diventa Transformers diventa cazzo di ticciolo